Il mercato come grande pacificatore nel processo di integrazione tra gli aeroporti di Firenze e Pisa sarebbe infatti, secondo il presidente della Toscana Enrico Rossi, la potenza pacificatrice del possibile sviluppo portato dalla recente acquisizione da parte di Corporazione America a promuovere un raffreddamento tra i due contendenti in vista dell'integrazione tra i due scali. Il gruppo di Ernecchian ha conquistato la maggioranza del capitale degli aeroporti in due distinte OPA. È un grande salto, ha detto Rossi, intervenendo oggi alla cerimonia di apertura di Pituomo a Firenze. Con questo sistema possiamo raggiungere tutto il mondo. Non penso ci siano tante regioni che possano vantare altrettanto, siamo sulla strada giusta. Il governatore toscano ha fatto notare che se è vero che la Toscana è moda, imprenditoria, export e turismo allora bisogna attrezzarsi con le infrastrutture. Infrastrutture tra le quali viene considerata anche la fortezza da basso, complesso il cui recupero, ha annunciato Rossi. La regione si è impegnata, assieme al Comune di Firenze, a iniziare al più presto. Un'iniziativa che, è stato detto, verrà inserita in un quadro più generale di valorizzazione del Polo Grandi Eventi, Polo che può diventare un volano straordinario per lo sviluppo della regione.